Bruce Marshall è uno scrittore inglese non molto conosciuto, eppure molto importante e anche molto prolifico durante tutto il Novecento. Forse qualcuno avrà letto La Carne, Il Monde e Padre Smith, avrà letto I Miracoli di Padre Malachia. Bene, questa sera vorrei parlarvi brevemente e leggere anche qualche riga di «A ogni uomo un soldo», che io ritengo essere uno dei suoi capolavori. Racconta la vicenda di un prete, di un prete qualsiasi, Gaston, uscito dalla Prima Guerra Mondiale, tornato in parrocchia dalle trincee, è profondamente disorientato. Da una parte vede un mondo molto più secolarizzato di quello che aveva lasciato, dall'altra parte vede una chiesa spesso fatta di persone ottuse, arroccate, ferme magari sui principi, ma poco capaci di parlare alla gente. Preso tra questi due fuochi, vive la sua missione di prete con carità, con bontà, con innocenza, cercando sempre il buono in ogni persona, al di là del peccato. Nonostante i continui ammonimenti e le severe punizioni che riceve dagli suoi superiori, rimane sempre fedele al suo spirito missionario verso i semplici, verso i poveri, verso il popolo. Una vita, insomma, trascorsa a combattere contro le logiche del mondo, sostenuto da una fede certa, ingenua, ma non priva di ragione, fondata sulla gioia. La gioia che viene, appunto, dall'essere cristiani e dall'essere prete. Dopo aver vissuto così tutta la vita, alla fine, comprenderà la misteriosa economia, l'economia di Dio, per cui il buon ladrone viene perdonato all'ultimo respiro e ogni operaio della vigna viene pagato lo stesso salario. Perché il nostro lavoro è ricompensa per noi stessi, come tanta parte del mondo che rifiuta Dio e castigo a se stesso. Sentiamo alcune espressioni di Bruce Marshall, riferite a Gaston. Disse che era questa una delle grandi misericordie che Dio aveva usato al mondo. Per diventare ciclisti o giocatori di calcio bisognava per forza andare in bicicletta o prendere a calcio una palla. Ma per farsi santi, disse Gaston, si poteva anche fare in modo santo le più svariate cose non sante. Si poteva offrire per la maggior gloria di Dio un po' di tutto, oltre le preghiere. Uno poteva offrire la profondità del fosso che scavava, un altro l'altezza che arrivava a saltare, un'altra il modo di indossare un bel vestito, perché se il pregare era un lavorare, il lavorare era anche pregare. Più grande delitto, disse Gaston, commesso dal secolarismo contro l'umanità, era quello di averla defraudata di un degno motivo per le sue fatiche. Era questa, disse una delle principali differenze tra il paganesimo e il cristianesimo. I falsi dèi parlavano nei temporali e nei massi rotolanti. Il vero Dio parlava nel silenzio della vita quotidiana. A domani.